Vibo è sicuramente cresciuta di tono, Rossard, Zaita, De Falco, Murato, poi la valla finisce fuori con il tocco nuovo, con il nuovo tocco di De Falco, dunque punto Milano, 11 per chi batte Milano, 12 per chi riceve, Patria al servizio, Rossard, deve alzare De Falco per la seconda linea, per la pipe di Rossard, troppo prevedibile, Murato. Dunque, 12 pari, addetti all'asciugatura del Taraflex in campo, si può adesso riprendere, sempre al servizio Patria, si gioca il terzo set, 12 a 12. La valla tra Rizzo e Rossard, c'è l'Ace, l'Ace di Patria. E stavolta chiede time out Baldovin, una fase forse distanchente. Adesso in questo terzo set, Milano conduce 13-12 al servizio Patria, Rossard, Zaita per Abuba, Murato da Mar in campo. Durato, Murato, Abuba. Dunque 14-12, ritorna più due Milano. Rossard, Zaita, accompagna soltanto De Falco, può giocare Milano e c'è l'attacco di Mar, prova a tuffarsi Rizzo, non ci arriva. Dunque, sfrutta il mani fuori del muro Marra per il punto numero 15 di Milano. 15-12, risultato di 1-1 come 7. Adesso nel terzo Milano, avanti di tre lunghezze, al servizio sempre il francese Patria. Il connazionale risponde Rossard, quindi Chester. C'è il primo tempo di piano che va incontro proprio a Zertoli. Per il primo tempo vincente. E ovviamente se gioca così c'è poco da fare per l'Altono Calipo. C'è il primo cambio di Baldovin, esce De Falco. Entra Victor Almeida Cardoso, Birigui. Il diciannovesimo brasiliano della storia di Vibbo. Patria. Proprio riceve Birigui. Abuba, viene Murato, Rizzo, Saitta. Chiama il primo tempo di Chester, scoperta la seconda linea e Rizzo non ci arriva. Murato, Chester. Un po' troppa frenesia nelle file della Calipo che ha smarrito quella Verve che l'aveva accompagnata dal secondo set in poi. Rossard davvero batte benissimo Patria. Stavolta un po' di difficoltà di Rossard e c'è l'Ace. Ace di Milano a più 6 adesso, 18-12. È entrato il brasiliano Victor Birigui poco fa al posto di De Falco. Rizzo e la palla subito nell'altro campo. Batte benissimo Patria. Adesso va ad attaccare e a prendersi le mani fuori di Victor. Per il punto numero 19. E' coltretto, anzi no, credevo fosse il fisco per il time out. Invece rientra De Falco, esce Birigui. A servizio sempre Patria. 19-12 Milano, terzo set. Sul rizzo, Saita per De Falco. Murato non c'è copertura, la palla finisce nel proprio campo. Punto Milano. Lo speaker cerca di spingere un po' il giocatore di Vibo, ma sembrano un po' smarriti. A servizio Patria ancora Rossard. Saita per Abuba. La parallela è out. Grazie a tutti. Grazie.